Dopo il lungo e faticoso Consiglio Comunale di martedì scorso, il consigliere d'opposizione, Gianluca Borrelli, torna a stuzzicare il collega di maggioranza, Maurizio Maggi. Il botta e risposta tra i due va avanti da circa un anno. In effetti, per qualche tempo, pareva andassero sin troppo d'accordo. Sono come il gatto e la volpe. In molti ricordano il faccia a faccia televisivo andato in onda sul Lazio TV Frosinone qualche tempo fa sul tema della sicurezza cittadina. Stavolta, il caso Sbelli va rintracciato nell'approvazione del punto all'ordine del giorno riguardante l'integrazione della tassa sui rifiuti urbani. Se da un lato c'è il consigliere Borrelli, che ritiene che la maggioranza si regga proprio grazie al consigliere Maurizio Maggi, che secondo lui continua a criticare a parole, cercando il consenso della città, ma con i fatti mantiene in vita l'amministrazione, che egli stesso ritiene responsabile della disfatta. Dall'altro lato, ad onor di cronaca, nell'ultimo consiglio comunale, il consigliere Maurizio Maggi, proprio sulla faccenda dell'aumento dei rifiuti, non solo è stato ripreso dai suoi stessi colleghi di maggioranza, ma ha anche votato decisamente no all'atto. Durante il suo intervento in consiglio comunale, ha spiegato dettagliatamente come, secondo lui, sono andate le cose, e non ha risparmiato accuse precise a chi, a parer suo, ha determinato la situazione attuale. E questo suo ruolo di sentinella a qualcuno ha dato fastidio, qualcuno che siede dalla sua stessa parte in consiglio. Maggi ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto a votare no all'ordine del giorno, prendendo una precisa posizione. Mettiamola così, il consigliere Borrelli questa volta deve essersi distratto. D'altra parte, la seduta è durata più di sei ore ed è stata davvero impegnativa per tutti.